La Sacchetto è un'azienda a conduzione familiare che opera nel settore agroalimentare. Nasce nel 1946, noi siamo la terza generazione. La Sacchetto utilizza prevalentemente prodotti agricoli provenienti dal territorio, quale il frumento e il riso, che vengono utilizzati per produrre amidi, alcol, proteine e sottoprodotti. Questi prodotti vengono destinati ad aziende alimentari, aziende cartarie, farmaceutiche, chimiche e cosmetiche. Nel processo produttivo della Sacchetto sono previste come fasi di trasformazione, la macinazione, la separazione, fermentazione, distillazione, concentrazione e dessicamento. Sono tutte fasi di trasformazione che richiedono un'ingente quantità di energia elettrica e termica, che fanno della Sacchetto un'azienda energivora. La cogenerazione ha diversi vantaggi per noi. Prevede una maggiore efficienza, minori costi e una maggiore affidabilità, poiché non si è penalizzati nell'autoproduzione da eventuali blackout della rete esterna. I minori costi ci permettono di avere un rapporto qualità-prezzo sui prodotti migliore, che ci permette di affacciarci su mercati esteri e mercati più concorrenziali, essenzialmente. Tutto questo comporta inoltre un miglioramento dell'immagine dell'azienda agli occhi della comunità. La Sacchetto ha scelto la CGT per diversi motivi. In prima battuta perché è in grado di offrire delle soluzioni su misura. Quindi in base a quella che è la quantità e la tipologia di energia di cui necessita un'azienda, la CGT è in grado di personalizzare l'impianto per questa determinata applicazione. Dopo l'installazione del primo cogeneratore da 1100 kW elettrici, installato nel 2003, abbiamo deciso per un motore da 1100 kW elettrici alimentazione ibrida. Siamo rimasti con la CGT sia perché soddisfatti dall'esperienza con il primo cogeneratore, sia perché state in grado di soddisfare la nostra richiesta di un'alimentazione ibrida, metano più biogas, che ci permettesse di produrre energia elettrica in modo costante, nonostante ci fosse una certa variabilità nel nostro sottoprodotto e quindi nella produzione di biogas in alimentazione al cogeneratore. Un altro punto importante, un altro punto a favore per quanto riguarda la CGT è l'assistenza tecnica. L'assistenza tecnica che interviene sui nostri impianti, sia per operazioni di manutenzione ordinaria o che per manutenzione di tipo straordinario, è sempre stata un'assistenza tecnica molto capace, molto presente, molto competente. A distanza di 15 anni dalla prima installazione abbiamo optato per un terzo impianto di cogenerazione, un motore Caterpillar, un G3520H. Si tratta di un motore da 2519 kW elettrici, 1220 kW termici prodotti con acqua calda a 90 gradi e 1258 kW termici prodotti con acqua surriscaldata a 140 gradi. Questo motore sarà in grado di offrirci un'ulteriore riduzione dei costi poiché presenta un rendimento elettrico superiore, che è la parte più nobile dell'energia e quindi quella con il maggior valore. Con i primi due cogeneratori da 1100 kW elettrici abbiamo avuto, grazie alla riduzione di costi, un risparmio in bolletta di circa il 30%, che ci ha permesso un ritorno dell'investimento in circa due anni. 15 anni di collaborazione testimoniano la nostra soddisfazione come sacchetto nei confronti di CGT. Il nostro augurio è di continuare a produrre energia a lungo in futuro in modo efficiente.